Che giocatore sono? Sono un giocatore che ha tanta quantità, anche qualità. Sono un ala centrocampista di destra che il mister mi conosce abbastanza bene. La scelta del Trapani è stata soprattutto per il mister Castori, che mi stima, mi ha dato la fiducia e mi voleva portare qua. Siamo partiti bene, secondo me per i primi 20-25 minuti abbiamo fatto abbastanza bene. Anche ieri, analizzando la partita, il mister ha detto stesse cose. Poi sul primo cross abbiamo preso gol e adesso dobbiamo lavorare sotto questo aspetto che non ci deve mancare la concentrazione durante la partita perché poi con un episodio praticamente tutto si è cambiato a 180 gradi. E niente, è quello che penso. Per primo, non è una domanda facile. Adesso soprattutto dobbiamo lavorare su di noi perché la situazione non è facile, però non è niente impossibile. Quattro punti per zona play-out, dopo otto punti alla fine sono sempre recuperabili. Dipende da noi perché se iniziamo a vincere la partita ci porta sicuramente su in classifica. Perciò dobbiamo lavorare meglio, non come abbiamo affrontato la partita contro la Cittadella e poi vediamo perché sedere qua e dire ci salviamo per forza sarebbe la forzata a mia parola. La situazione è difficile, tutti lo sappiamo e dobbiamo lavorare a grande per riuscire di questa situazione. Infatti, primo giorno quando sono arrivato praticamente direttamente dall'aeroporto ho fatto esordio contro Venezia e è stato tutto quello che ha detto lei che è stata intensità, una squadra affamata con la voglia di vincere e secondo me contro la Cittadella questi primi 20 minuti sono stati così e come l'ho detto prima è un episodio che ci ha cambiato tantissimo e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto che un episodio non può condizionare la partita come ha condizionato contro la Cittadella. Secondo me c'è tanto fuoco perché anche ieri analizzando la partita con il mister e ci abbiamo detto di tutto, poi abbiamo lavorato alla grande e niente, non c'è altra strada di affrontare queste situazioni e come ho detto prima siamo consapevoli e dobbiamo andare avanti. No, ma conoscendo calcio italiano, anche come funziona con il mercato non ero sorpreso per niente, per entrare perché il mister mi conosceva. Su questo aspetto no, poi aspettavo che forse posso partire subito titolare e quella era mia speranza, non sono partito titolare, ero pronto per dare la mano durante la partita in corso. Cioè quello che è accaduto credo che ho già spiegato e non mi voglio ripetere. e poi niente, tutto qua. No, ma poi il mister ha fatto due cambi importanti dopo il primo tempo e tu, cioè io non che sono qua a spiegare decisioni del mister poi ovviamente durante la partita non si sa cosa succede e poi il mister ha suoi valutazioni, ovviamente io volevo dare la mano anche giocando in più, ma è stato così. Questo ancora non lo so perché praticamente ho visto solo una volta che abbiamo giocato qua è una partita difficile, è un avversario forte che si trova in zona playoff conosco giocatori, conosco la squadra, lo so come giocano ci prepariamo alla grande perché non c'è tempo da perdere e ovviamente dobbiamo cercare la vittoria a tutti i costi Una squadra molto organizzata, una squadra che con quello sistema si trova bene finalmente Salerno dopo tutti questi anni si trova in classifica dove credo cercava in ultimi anni io se lo posso dire che è squadra completamente diversa da quando io sono stato a Bari sei mesi fa abbiamo fatto triangolare torneo dove Salerno sembrava una squadra completamente diversa No, ho giocato in quello, oppure ho giocato in questo ruolo perciò anche quando giochi 4-2-3-1 soprattutto con mister Castori, con mister Boscalia devi dare la grossa mano anche in difesa perciò non sono preoccupato per il modulo sono pronto e non vedo ora di fare le partite quelle sono mie aspettative Per adesso il sogno è semplice salvarsi con Trapani in questi mesi non guardo più avanti sono concentrato al certo per cento qua per questi 4 mesi che ci affronto con grande voglia e con grande determinazione per adesso quello è più importante di tutto per adesso benissimo primo giorno sono arrivato praticamente secondo giorno ho già trovato appartamento e abbiamo fatto transoco con mia moglie da Bari sono come ho detto prima concentrato 100% al lavoro quello che volevo fare subito in prima settimana perciò sono contento do anche un po' la mano a Filippo a Piszek e niente andiamo avanti